Pace e bene, oggi ti racconto una storia che si intitola la saggezza. C'era una volta un re che passò la vita a far guerre e a cercare di ingrandire il regno. Verso i 70 anni si rese conto che però non aveva imparato molto sul senso della vita. Chiamò allora i saggi del suo regno e disse loro, vi darò tutto il denaro che volete, ma vi prego, andate in giro per il mondo e portatemi tutti i libri di sapienza che troverete perché voglio imparare qualcosa nella vita. Questi saggi dopo sette anni ritornarono con i cammelli carichi di libri e pergamene. Il re a vedere tutto ciò disse, ma io non ho tempo di leggere tutti questi libri, ho 77 anni, riassumeteli voi. I saggi riassunsero i libri ma abbondavano ancora, sette cammelli pieni di libri riassunti. Il re al vederli disse, miei cari, io ormai ho 84 anni e chi ce la fa a leggere tutti questi libri? Vi prego, riassumeteli. Quelli riassunsero ancora i testi ed ecco un solo libro. Ma il re al vedere questo solo libro disse, ma io ormai ho 90 anni, come faccio a leggere tutto questo libro? Vi prego, riassumetemelo in una frase. I saggi lavorarono ed ecco finalmente il riassunto. Il riassunto è questo, vivi bene il momento presente. Morale della storia Molte persone vivono rinchiuse nel passato nostalgiche di ciò che è stato o unicamente proiettate al futuro, attendendo un avvenimento che possa sconvolgere o rivoluzionare la vita. Il segreto invece per essere felici è vivere bene il momento presente. Non abbiamo che l'oggi per amare, non abbiamo che l'istante che Dio ora ci sta dando per poter essere felici, regalando anche a qualcuno la felicità. Questo è il segreto della felicità, vivere bene l'attimo presente, mettendo il cuore in ciò che si è chiamati a fare, donando amore a chi ci sta accanto, dando così senso ed eternità anche ai più piccoli gesti di amore che uno fa. Che il buon Dio ti benedica. Che il buon Dio ti benedica.